Il campione segna per noi, ti ne faccio un gol Il terzo minuto il match si sblocca Salvini non si intende con Lamarra e mette alle spalle del portiere il pallone che vale l'1-0 della Lazio Questo svantaggio immediato costerà caro al Savio perché al 21esimo sono ancora gli ospiti a farsi pericolosi Napolitano un persedisce Lamarra che è bravo a deviare sull'esterno La prima azione del Savio si regista al 35esimo con questa girata allo scadere di Di Laulo Facile però la parola di Sternini Match che sembra andare verso l'intervallo ma ecco che Botticelli ne approfitta e scavalca con un pallonetto Lamarra E poi delicatamente appoggia il rete 2-0 della Lazio all'intervallo che segna per sempre l'esito del match Nella ripresa è Bedini ad iniziare bene per la Lazio ma il suo tiro colpisce l'esterno della rete Lazio che chiude definitivamente la questione gara alla decimo grazie al bellissimo gol di Rossi Nel numero 7 della Lazio riceve palla dei 25 metri e con un po' diante destro non lascia scampo a Lamarra Che non può altro che guardare il pallone e tirarsi all'angolino Al quindicesimo la Lazio va addirittura vicino al poker ma Serafini a tu per tu con Lamarra Si da sempre inserire e il portiere salva il risultato dal camoroso 4-0 Savio che non riesce più ad uscire dalla sua area e così qualche istante più tardi ancora una volta Serafini Colpisce la traversa da posizione ravvicinata L'unico tiro del Savio arriva alla 25esimo quando Minelli sbaglia il retropassaggio per il portiere Ma Di Leon non lesto a superare il portiere della Lazio Match che non ha più nulla da dire e così dopo 3 minuti di recupero Finisce con la Lazio che batte il Savio per 3-0 e in anella la terza vittoria consecutiva del campionato Grazie a tutti